Un antico legame tra due città che si rafforza nel nome di Maria. Domenica 24 settembre, l'effigie della Madonna Nera di Vigiano, regina e patrona delle genti lucane, è arrivata in peregrinazio a Villa d'Agri. Prima la solenne celebrazione eucaristica in piazza Zechettin, presieduta dall'arcivescovo metropolita di Potenza, muro lucano Marsico Nuovo, Monsignor Ligorio, poi la processione lungo le vie della città e infine l'inaugurazione di un monumento bronzio dedicato alla Santa Patrona della Basilicata, posto all'incrocio con via nazionale. Una struttura monolitica in acciaio corten, costituita da corde intrecciate e disposte a raggera, a rappresentare i 131 comuni lucani protetti dalla Madonna Nera. Un'opera che valorizza l'estetica e al contempo il potenziale simbolico dell'effigie della Madonna di Vigiano, madre e regina, ha sottolineato il sindaco di Villa d'Agri, Marco Zippari, per il quale il monolite si candida ad essere uno tra i monumenti più alti della Basilicata, dopo il Cristo Redentore di Maratea. Un gesto che per il primo cittadino di Vigiano, a Meteo Cicala, rinsalda un solido rapporto d'amicizia costruito nel tempo.